ciao a tutti continuiamo la rassegna delle proprietà degli shape layer oggi vedremo tutte quelle proprietà che sono in grado di deformare le forme all'interno degli shape layer bene quindi incominciamo col creare una forma dall'elenco delle forme prendo la forma poligono e disegno un pentagono in questo caso ora vengo nella timeline seleziono il contenitore di tutte le forme contents vado a destra nel menu add e scelgo la proprietà packer and bloat la proprietà packer and bloat si inserisce subito dopo il pentagono apriamo il contenitore della proprietà e vediamo che ha un unico parametro amount che già impostato su 10 proviamo a aumentarlo come vedete aumentando questo parametro i lati del poligono si piegano verso l'esterno come potete vedere il pentagono prende l'aspetto di un fiore in questo caso se invece diminuisco il valore di amount sotto lo zero quindi vado verso valori negativi i lati del pentagono si piegano verso l'interno quindi dipende tutto dal numero dei lati della forma quindi in questo caso cinque lati e quindi cinque deformazioni se aumentiamo il numero dei lati al poligono e quindi apro il contenitore di polistar vado nella sezione polistar path qui c'è la proprietà points che mi permette di aumentare il numero dei lati proviamo aumentare a 6 7 8 e via così aumentando diminuendo il numero dei lati aumenta diminuisce il numero delle deformazioni quindi questa proprietà come avete visto molto semplice da usare ed applicare benissimo adesso eliminiamo questa proprietà dallo shape layer quindi la seleziono packer and bought e col tasto canch la elimino benissimo adesso aggiungiamo un'altra proprietà di deformazione quindi seleziono ancora il contenitore di tutte le forme contents e dal menu add scelgo questa volta la proprietà round corners e vediamo che cosa fa la proprietà si aggiunge subito dopo la forma apriamo il contenuto e anche qui c'è un'unica proprietà radius impostata a 10 se io aumento questa proprietà vedete che tutti gli angoli della forma si arrotondano sempre di più e se lo rimetto a zero questo parametro come vedete gli angoli tornano normali come all'inizio quindi nel caso abbiate una forma fatta di spigoli retti ma avete bisogno di rapidamente arrotondare tutti gli angoli potete usare questa proprietà round corners benissimo adesso eliminiamo del tutto lo shape layer e creiamo una forma diversa quindi seleziono shape layer e lo elimino questa volta aggiungiamo una stella quindi prendo lo strumento stella e disegno qui al centro una stella in questo caso a 5 punte seleziono ancora il contenitore contents e dal menu add questa volta scegliamo un'altra proprietà in questo caso twist e vediamo che cosa combina già subito si nota che è in atto una deformazione sulla stella andiamo a vedere i parametri di questa proprietà quindi apriamo il contenuto di twist uno angle che è da 10 proviamo aumentarlo ecco più lo aumentiamo e più la deformazione che ha l'aspetto di un vortice si piega in senso orario se ci andiamo verso numeri negativi la distorsione avviene in senso anti orario se noi vogliamo decentrare il centro di questa distorsione possiamo anche agire sul secondo parametro center proviamo a cambiare la posizione del centro del vortice magari verso sinistra e come vedete l'aspetto della distorsione cambia completamente perché adesso il centro del vortice è a sinistra se lo sposto a destra diventa così se lo sposto verso l'alto il basso cambia ancora insomma l'aspetto di questa distorsione a vortice dipende da dove si trova il centro del vortice quindi anche questa proprietà molto semplice da usare benissimo passiamo ad un'altra proprietà prima però eliminiamo anche questo shape layer lo seleziono lo elimino e questa volta disegniamo una forma un po più semplice un rettangolo e disegno un rettangolo qui al centro selezioniamo il contenitore delle forme contents andiamo nel menu add e questa volta aggiungiamo la proprietà zigzag e vediamo che cosa succede succede che lungo tutti i lati si aggiunge questa deformazione un po zigzagata appunto andiamo a vedere le proprietà di zigzag all'interno della timeline apriamo il contenuto abbiamo size pieghe per segmento rigges per segment e points cominciamo dalla prima proviamo aumentare da 5 in su come vedete la piega aumenta verso l'esterno verso l'interno ok mentre rigges per segment gestisce la quantità di punti che suddividono i vari lati cioè se aumento questo valore vedete che aumentano i punti delle pieghe e se lo diminuisco diminuiscono i punti delle pieghe quindi la dimensione size gestisce quanto verso l'esterno verso l'interno si piega questa proprietà e rigges per segment la quantità di pieghe lato per lato poi posso anche cambiare l'aspetto della piega in questo caso la piega impostata su corner e quindi le pieghe sono segmenti retti se invece cambiamo la voce da corner a smooth vedrete che il numero delle pieghe rimane uguale a prima però vengono appunto ammorbidite quindi passa una curva per tutti i punti rimanendo sempre la stessa impostazione di ampiezza dimensione e quantità di pieghe benissimo eliminiamo anche questa proprietà zigzag la seleziono la elimino e sempre sulla forma rettangolo ne aggiungiamo un'altra quindi seleziono di nuovo contents vado nel menu add e questa volta aggiungiamo offset path apriamo il contenitore di offset path e la proprietà più importante è la prima che è amount quello che otteniamo è un'espansione verso l'esterno se aumentiamo la proprietà amount con valori positivi e una contrazione verso l'interno se andiamo verso valori negativi per cui sembrerebbe essere una cosa molto simile a quello che otteniamo agendo direttamente sul valore scala questo perché perché noi stiamo applicando questa proprietà a una forma chiusa questa proprietà diventa interessante se noi invece la applichiamo ad un tracciato aperto per cui eliminiamo di nuovo tutto lo shape layer lo seleziono lo elimino e con lo strumento pennino disegno un tracciato aperto quindi clicco e genero un po di vertici a caso immediatamente come vedete ho il tracciato aperto ma anche il fill adesso noi disattiviamo il fill e ci concentriamo esclusivamente sul tracciato quindi apro le proprietà dello shape layer apro anche le varie proprietà dello shape e spengo l'occhiolino fianco a fill in modo da disattivare il riempimento quindi mi rimane soltanto il contorno benissimo adesso aggiungiamo di nuovo la proprietà offset path quindi seleziono contents vado nel menu add e attivo di nuovo offset path apriamo i parametri di offset path e aumentiamo il primo valore come vedete adesso otteniamo qualcosa di più interessante perché è come avere un contorno di un tracciato intorno al quale gia tutto intorno un nuovo bordo a questo punto potremmo anche riattivare la proprietà fill quindi di nuovo riaccendo l'occhiolino fianco a fill e come vedete ho una forma piena del tutto nuova l'aspetto degli angoli e delle estremità di questo tracciato lo posso modificare se intervengo sul parametro line join che al momento è su miter join se invece lo modifichiamo da miter join a round join come potete vedere tutti gli angoli e le estremità si arrotondano e se invece scegliamo l'ultima voce bival join i vari angoli e le estremità vengono invece smussati se torniamo di nuovo su miter join e interveniamo anche su miter limit vediamo che se abbassiamo questo valore verso lo zero negli angoli più stretti l'angolo viene appunto smussato anziché rimanere completo quindi in caso di angoli particolarmente acuti è importante il valore che si assegna al miter limit più è alto e più gli angoli rimangono completi benissimo eliminiamo di nuovo lo shape layer e vediamo adesso l'ultima proprietà in grado di deformare le forme degli shape layer questa volta l'applichiamo di nuovo a un poligono quindi disegno un pentagono seleziono contents e dal menu add scelgo wiggle paths apriamo subito le proprietà di wiggle paths e qui ci sono diversi parametri incominciamo dal primo che è la dimensione size se io l'aumento come vedete ogni lato viene deformato in modo irregolare è molto simile alla proprietà zigzag però come vedete anziché ripetersi regolarmente la distorsione si ripete un po casuale in certi punti è più pronunciata in certi altri meno quindi più aumento size più in generale aumenta la distorsione ma non uniformemente su tutti i lati poi c'è il dettaglio che è un po come il numero dei punti dello zigzag più aumento questo valore e più la quantità di queste pieghe aumenta lato per lato e poi abbiamo anche il modo di applicare la distorsione cioè con la voce corner la distorsione è un insieme di linee rette piegate verso l'interno verso l'esterno se invece scegliamo la voce smooth queste pieghe invece si arrotondano quindi size è la grandezza di questa deformazione e detail la quantità di queste pieghe i parametri che invece vengono dopo points hanno a che fare con l'animazione di questa proprietà perché se adesso noi facciamo una preview di questo shape layer quindi magari la facciamo per tre o quattro secondi vediamo cosa succede vedete che questa deformazione non è statica è animata e l'animazione di questa proprietà dipende dalla proprietà wiggle second che sta a significare il numero di vibrazioni al secondo in questo momento è impostato su 2 che è il valore di default se noi aumentiamo questo valore vedrete che la vibrazione di questa deformazione aumenterà quindi proviamo a aumentarlo sensibilmente vedete che adesso la deformazione cambia molto più rapidamente rispetto a prima se invece noi la azzeriamo del tutto la riportiamo a zero abbiamo la deformazione ma statica quindi se noi abbiamo bisogno di avere una deformazione irregolare ma senza movimento basta impostare il valore wiggle second a zero se invece lavoriamo animata più aumentiamo questo valore e più l'animazione cambia rapidamente benissimo la proprietà correlation invece ha a che fare con la forma originale più aumentiamo questo numero e più la forma originaria rimane ben visibile se non le portiamo al 100 per cento come vedete si vede una punta di disturbo sui vari spigoli ma la forma pentagono è ben visibile se invece diminuiamo il valore verso zero la forma pentagono tende a scomparire benissimo quindi con wiggle paths abbiamo completato la rassegna di queste proprietà che deformano il contorno delle varie forme degli shape layer adesso prima di terminare la lezione voglio solo farvi notare un paio di cose però prima elimino di nuovo lo shape layer e disegno di nuovo un poligono questo perché per farvi notare che innanzitutto è possibile applicare più deformatori contemporaneamente all'interno di uno shape layer facciamo un semplice caso in cui aggiungiamo prima un deformatore packer in blot che piega i lati verso l'interno verso l'esterno magari facciamo in modo che i lati si pieghino tanto verso l'esterno in modo da ottenere una forma simile a un fiore poi aggiungiamo una seconda proprietà di deformazione quindi contents menu add e aggiungiamo twist e come vedete se aumento anche il parametro di twist ottengo alla fine una specie di fiore con effetto vortice quindi io posso aggiungere più proprietà di deformazione contemporaneamente ottenere una cosa completamente nuova naturalmente come potete immaginare le possibilità combinatorie diventano infinite tutto sta nel provare caso per caso e vedere se si ottengono cose interessanti bene elimino di nuovo lo shape layer e questa volta disegno due forme disegno di nuovo un poligono qui a sinistra e anche una stella qui a destra perché questo perché come già vi ho fatto notare nella lezione precedenti quando si aggiunge una proprietà all'interno di uno shape layer bisogna stare attenti a che cosa è selezionato qui a sinistra selezionando contents la proprietà che aggiungo si aggiunge dopo tutte le forme che io ho qui se io invece seleziono le forme le proprietà che io aggiungo si aggiungono all'interno della forma ecco in questo caso particolare potrebbe essere interessante questa seconda opzione cioè aggiungere un deformatore all'interno di una sola forma in modo che deformi solo quella forma e un altro deformatore all'interno di un'altra forma in modo che agisca solo su quell'altra forma cioè se io per esempio seleziono il poligono che questo qui il polistar 1 e dal menu add aggiungo la proprietà packer and blot questa proprietà agisce soltanto su questo poligono aumento di nuovo al parametro amount e si piegano soltanto i lati del poligono e adesso se volessi applicare una deformazione diversa soltanto alla stella potrei anche selezionare polistar 2 e dal menu add applicare twist e agire soltanto appunto sulla stella quindi due forme diverse ognuna con il suo deformatore perché prima di applicare la proprietà ho selezionato le forme e non il contenitore generale benissimo questa è l'ultima cosa che avevo da dirvi circa le proprietà di deformazione quindi la lezione finisce qua e ci vediamo alla prossima ciao